bello a tutti ragazzi bentornati nel dar channel io sono dar plus e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi con bingo 7 ragazzi siamo nell'inizio ufficiale della serie l'addestramento la grandissima serie mamma mia ragazzi mi raccomando andatevi a vedere il trailer se non l'avete visto troverete sempre in descrizione tra i video consigliati ragazzi mamma mia se sono consigliati si deve vedere se per forza è per forza figa allora discepolo giovane padawan iniziamo a prendere la legna che qua abbiamo uno spawn bellissimo abbiamo pure le pecore ok ci serve la legna vabbè vado sull'altro albero sono questo qua mi uccide prima poi vai usa la forza vabbè ancora non ho capito questa cosa di minecraft come fa un uomo un uomino a spaccare con il braccio vabbè la roccia ma tu non sei un uomino io sono batman io le posso fare queste cose ok fai la crafting table fai vedere ai nostri giovani amici come si fa ora vabbè la legna che ho buttito la legna che ora faccio io la casa il table ripeto ok fai la crafting table ragazzi vi rendete conto a chi cacchio devo ho fatto no piazza la vecchia no perché devo prima raffinarlo giusto ce l'ho ce l'ho ma non devi buttare gli alberi di piazzare una fottuta craft in peco ok fai gli attrezzi senti quella pecora mi sta guardando male guarda la l'ho vista ma ti sta guardando male perché si è nascosto mi sta fissando ok ora va meglio ragazzi vedete che mi tocca fare questo sarà prendere una fottuta pecora che non muore mi si è rotto pure il piccone per ammazzare una pecora oddio c'è un quadrato che vuote nate è un polipo non è un quadrato che non c'è su c'è sempre ragazzi comunque penso che la base nostra la costruiremo qua vicino a questo bel fiumiciatolo dove abbiamo zucca e tutto è perfetto questo posto dove abbiamo abbiamo le zucche qua vicino allora innanzitutto guarda io fai un piccone sai come si fa un piccone sì sì me lo ricordo ok fai un piccone perché la prima cosa che dobbiamo fare comunque procurarci un po di cobblestone capito in modo non fare altri attrezzi fai solo e unicamente ce l'ho ok troviamo un punto qua anche a caso io la ho scavato però l'ho trovata e tu scava un po di cobblestone ma c'è l'acqua non fa niente aspetta mo la levo io l'acqua togli l'ho tappata io allora dobbiamo muoverci perché tra un po ci avremo fame e tutto quindi muoviti a scavare come che cioè prendi più cobblestone che poi fino a quando non ti si rompe il piccone capito ho capito come faccio a sapere che si è rotto ti si rompe l'acqua perché deve fare sempre danni non scavare più e guarda è dalla che insiste la a me mi si è rotto il piccone come lo hai fatto cioè mi si è rotto non ce l'ho più ma che ti esce la notifica ma che notifica si ti mandano un messaggio su whatsapp guarda dar che si è rotto il piccone io vado a fare gli attrezzi ti si rompe e basta ti scompare mi faccio un ascia di continuo a scavare si si tu scava io intanto faccio un ascia ok vado a prendere subito della legna ok una spada ottimo faccio gli attrezzi anche per te va bene va bene così l'altra cobblestone la usiamo per fare la fornace ma poi faremo anche un allevamento tipo si faremo anche un allevamento tranquillo faremo tutto tutto quello il possibile quando sarà completo l'addestramento quando avremo sconfitto il drago allora sarai pronto in che vuole il drago magari fosse hai finito a scavare finché non mi si rompe il piccone scavo si scava scava mi fa bene scavare vai vai vivi quando hai finito tra un po si sta per rompere meno male bisogna guardare la vita quella giù si la vita la vita c'è la vita del piccone la vita di la vita del tito un piccone e quando ti si rompe sto piccone vuoi giusto le spizzi non lo so è scavata mezzo ah si è rotto oh vieni qua guarda che ti do fammi tieni tieni e tieni per ora basta così lascia ce la basta una sola per due ok allora intanto vado a riprendermi la crafting table subito subito ok dove siamo diretti adesso adesso siamo diretti guarda se vedi là sotto all'orizzonte vedi quelle cose arancioni no quei blocchi arancioni di fronte a te ah si che sono sono le zucche che dopo andremo lì va bene ragazzi lui ride per delle zucche però va bene allora tu intanto vedi queste pecore qua ecco non riderci sopra ma uccidire cosa c'è una spada povere no ci serve sia la carne ci sono pure i cavalli qua batona che posto spettacolare ragazzi che cosa ammazza le pecore non fare troppe domande uccidi ha ucciso oh ragazzi potete immaginare che serie ci uscirà qua un cavallo madonna i maiali ragazzi questo spawn noi non ci sposteremo da qua per ora penso che costruiremo anche nel prossimo episodio lo dedicheremo alla costruzione della casa ok adesso sta facendo notte nel frattempo quindi dobbiamo hai quanta lana hai puoi controllare per favore due ce ne serve un'altra sola di lana guarda quello che pascola i cavalli non ci credo ma dove stai mi stai proseguendo vieni qua porco schifo vieni qua ma hai passato dalla carne al cavallo ragazzi che rocci lo uccido lo uccido basta sto andando sta facendo notte dammi la lana butta la lana per terra butta anzi no tienitela in mano va ti insegni a fare il letto ok tieni guarda ti do un altro blocchetto ce l'hai la legna non raffinata non ravanata muoviti sto facendo notte la legna raffinata ce l'hai raffinata o no raffinata si ce l'hai no non ce l'ho ma anche quella normale tieni 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 la domanda non tussisti prendi la muoviti te la sei ripresa tu prendi quella fottuta legna me la prende mi fa scavaccare ragazzi quasi moriamo non ci credo allora apri la crafting table ce l'ho fatta piazza tre pezzi di lana in alto uno a fianco all'altro ok l'hai fatto sì sotto piazzaci tre pezzi di legno una a fianco all'altro come un panino è uscito ok piazza il letto a cacchio e dormi e tu già ce l'hai e grazie che ce l'ho la donna stanno i mostri io già li vedo qua facciamo una brutta fine ma scusa ma possiamo dormire così in mezzo alla strada ci stanno a venire i zombie addosso eccoli rompiti il letto e porta vabbè vai lo zombie mo sta prendendo fuoco l'ho uccido semplice dai vado pure io l'ho uccido semplice ho parlato ok allora 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 adesso dobbiamo andare di qua ecco vabbè perfetto tu dovresti uccidere i maiali uccidi i maiali va che ci servirà la carne ho preso la carota la carota hai una carota sì non mangiarla manco morto perché perché dopo ci servirà per attirare i maiali e portarli nel recinto che faremo ma veramente no per finta dobbiamo fare un recinto per portare i maiali si poi dobbiamo far accoppiare pure i maiali quindi lasceranno tanti piccoli maialini prendi la legna già che ci stai va mi devo fare la crafting machine tieni crafting machine ce l'ho io la crafting machine no se l'ho piazzata la crafting machine come si fa la lascia due stecchi uno sopra l'altro e tre pezzi esploso un creeper io sono quasi morto va bene tre pezzi di pietra ce l'hai la pietra si si ad angolo intorno agli stecchi ok senti ma perché fa più danno l'ascia della spada ma tu c'è la spada di pietra non fa più danno l'ascia allora fa più danno l'ascia va bene non lo so perché non fare troppe domande ok allora allora vieni un attimo come basta non fa niente la legna non ci serve più aspetta facciamo battere almeno questo che mi piace questo colore qua se ci serve per gli arredamenti ok vai ti ho aiutato allora qui abbiamo i cavalli di là abbiamo la savana dove stai girati girati la mela serve ad attirare qualche altro animale si dopo ci serve per far innamorare i cavalli di noi ma che cazzo guarda la sotto la sotto abbiamo la savana ok ho visto si ok ora seguimi perché adesso da un po di animali ed appunto noi ce ne andiamo un po più lontano dagli animali così non ti distrai con gli animali tu e poi li veniamo a prendere quali portiamo da noi capito e li ammazziamo tutti ma perché devi ammazzarli intanto qua arrivano le cose di dove abbiamo fatto il server ragazzi non abbiamo soldi però va bene ci vogliamo far pagare stronti ci serve anche a me bellissime aia le devo cogliere tutte le devi cogliere cogliere te le do no pure io la voglio dammene no vedi come si vedrà si vede malissimo che senso oddio bellissimo allora vieni qua allora vieni qua allora adesso che dici ti piace questo posto per farci la nostra prima casetta quale stiamo adesso se si mi piace c'è anche vista lago ok perfetto allora ragazzi nel prossimo episodio faremo la casa proprio in questo preciso posto per ora questo episodio direi di concluderlo qua che dici sì sì anche ma abbiamo introdotto la serie questo è il classico episodio iniziale quindi intanto stiamo levando un po di erbacce qua perché stiamo preparando il piano di casa poi dovremmo farci un sacco di cose ragazzi sarà una bella serie io sono molto fiducioso sperando che non si perderà con qualche cavallo non vi ricorda mettere mi piace scrivere commentare e noi ci vediamo per il prossimo video ciao a tutti ciao